L'Occidente e l'Europa depredano quei paesi, fanno la guerra in quei paesi assieme alla Nato, mandano in frantumi qualunque indipendenza di quegli stati, abbiamo visto cosa è successo in Libia con Gheddafi, prima in Iraq e adesso si è tentato in Siria e queste azioni che sono azioni violentissime, sono azioni di guerra, sono la prima causa di questa situazione dei migranti, la seconda questione è quella economica, in quei paesi sono depredati delle risorse e delle materie prime, si favorisce la corruzione dei gruppi dirigenti di quei paesi che pensano solo alla propria cerchia e se ne fottono del loro popolo e ne paghiamo le conseguenze, qua in Italia, qua in Italia, qua in Italia, mi deve dire che cosa fareste voi? Sì, qua in Italia faremo una legge, le grandi analisi vanno bene se poi portano i politici a scegliere delle azioni politiche. Mi scusi Gruber, intanto noi non faremo la guerra, mi pare già una cosa interessante, in secondo ordine cercheremo di sviluppare delle relazioni non così diseguali con quei paesi e in terzo ordine qua in Italia faremo una legge seria di parità di salario a parità di mansione, nel senso che non è che arriva un giornalista siriano che dorme negli scantinati della Sette, guadagna 500 Euro al mese e a lei Gruber la mandano a casa, perché lei in questo modo diventa razzista, capisce? Se ci fosse una parità di salario a parità di mansione per tutti non ci sarebbe il razzismo, l'axonofobia. Purtroppo la sinistra è fucsia e fighetta, pensa ad altro e non pensa al lavoro che è la questione centrale anche per risolvere il problema di immigrati.